Lavorativamente siamo messi male, perché abbiamo una riduzione di lavoro del 50-70%, ma non ai chiacchiati, realmente, noi eravamo tre di mattina e ora siamo niente, il 2 e 6, il titolare può ridurre perché gli incassi sono diminuiti, quindi non ha la possibilità, volendo, di pagarsi, perché non ci sono più i cacciati di qualche mese fa, prima di questo partito il 27 novembre, nella usura della strada.